E salve a tutti youtuber, si fosse Filippo Firenze qui con una nuova drink review. Oggi proverò per la prima volta la bevanda prime gusto limone lime. Ebbene sì, ci siamo finalmente anch'io. Sono riuscito a mettere le mie mani quasi pelose su uno dei prodotti più ricercati nel mercato, ovvero le bevande prime. Nate dall'idea dello youtuber Logan Paul, per chi non lo conoscesse, dal design veramente one of a kind, molto esagerate. Già solo anche partendo dalla scritta, che ricopre praticamente la totalità della parte frontale della bottiglia. Qui in alto invece abbiamo i nostri gusti di riferimento limone lime. Un verde devo dire abbastanza importante, quasi fosforescente. Non so se neanche esiste in italiano fosforescente, fluorescente. Quella roba là. Dietro abbiamo tutti quanti i nostri ingredienti e sinceramente me ne aspettavo molti di più. Però una lista enorme di valori nutrizionali. Ci dicono che è fatto anche senza caffeina e la bottiglia da mezzo litro, pagato 2,79 euro al supermercato e non negli shop americani che vediamo in giro. Quindi già questo è un enorme bonus per me. Ma ora vediamo se questa famosa bevande che tutti quanti bevono, tutti quanti amano, conquisterà anche me oppure no. Ed eccola qua la nostra prime, devo dire, dal colore sembra quasi una limonata barra lemon soda barra sprite, però molto meno effervescente. A naso devo dire che c'è un odore abbastanza delicato di limone lime, ma ora passiamo all'assaggio quindi. Cheers! E vi posso dire con il mio enorme stupore che anch'io mi unirò alla stregua, quella roba lì, dei fan della prime. Devo dire che è stata veramente buona, leggera, rinfrescante, me ne aspettavo una botta di zucchero incredibile. E invece non tanto, anzi, è molto equilibrata da questo punto di vista. C'è questo gioco leggero di limone lime che ti rinfresca veramente il palato. E vi posso dire che è veramente buona. Ma soprattutto per queste giornate estive di 35, 40, 50, 1000, 1000 gradi in più, potrebbe essere il drink ideale per risollevarti non solo lo spirito, ma anche ti rinfresca tutto quanto. Buona, buona, buona. Bravo Logan, bravo Polle, bravo Prime. E quindi ragazzi, che dire, spero che questa dissetante drink review vi sia piaciuto vi metterò qua sotto il link in descrizione. Altri video, mi raccomando, iscrivetevi al canale, condividetevi comunque, come sempre. Cheers! Oh, ma è buona. Oh, ma è buona.